Sirio non muoveva nulla del suo corpo. Era lui che combatteva per la vita. Quegli occhi davano una forza incredibile. La speranza, la più piccola delle virtù, la più umile, ma la più quotidiana. Non si può ridere su tutto, questo è evidente. Però quando manca lo sguardo ironico sulla realtà, la vita è meno bella, ha meno anima.